Con il rinnovo contrattuale le parti sociali hanno voluto attribuire alla bilateralità edile un ruolo ancora più importante sul fronte della prevenzione alla sicurezza, alla salute e alla formazione professionale. Molti sono i punti che rafforzano la prevenzione attraverso il rinnovo contrattuale. Tre gli aspetti principali, la formazione di primo ingresso per i tecnici impiegati che entrano per la prima volta in cantiere, la formazione sulla sicurezza di aggiornamento per tutti quanti i lavoratori edili che già da anni operano nel nostro settore e un progetto sulla sorveglianza sanitaria sperimentale per i prossimi tre anni gestito direttamente, mutualizzato e gestito direttamente dalla bilateralità. Il Formidil si impegnerà affinché le nuove norme contrattuali vengano applicate in tutte le sue parti.